Un po' di dolcezza per i sanitari dell'ospedale San Donato di Arezzo. La donazione arriva dal Calcit attraverso un'azienda artigiana del territorio. 200 i panettoni artigianali che andranno in donazione a tutto il personale sanitario dell'ospedale San Donato di Arezzo. Noi si vende un pezzo di noi, come spero e penso facciano i medici dell'ospedale, che dopo due anni di prove particolari, vestazioni di ogni genere, una carezza di dolcezza penso che se la meritano. Sei imprenditore artigianico, come ha detto Pierozzi. Poi diciamo che ci sembra giusto anche tenere alta l'attenzione e anche verso tutti gli operatori sanitari, dagli infermieri ai medici alle osse. Perciò è un pensiero che durante le feste, sia natalizie che di Pasqua, ci piace fare. Intanto prosegue la campagna vaccinale. È il direttore generale della ASL Toscana Sud-Est a ricordare l'importanza della dose booster. L'importante è fare la terza dose perché la storia di tutto il Covid ce l'insegna. Nessuno ha la verità assoluta. Pensavamo, diciamo due anni fa, pensavamo di essere qua, che saremmo stati qua senza mascherine, invece siamo ancora con le mascherine. Due anni fa pensavamo che il vaccino avrebbe risolto davvero tutti i problemi. Non è così. Però certo li ha, come dicevo poco fa, ridotti moltissimo. È importante fare la terza dose perché gli scienziati ci dicono che la protezione anticorpale tende a ridursi dopo cinque mesi. Quindi è importante ripetere, rinforzare la dose. D'altra parte ci siamo abituati con la vaccinazione anti-influenzale, che ripetiamo ogni anno. Probabilmente la vaccinazione per il Covid diventerà vaccinazione come per l'invirus influenzale.